La schermaglia politica è entrata veramente nel vivo, l'hanno attaccata in maniera anche piuttosto importante su questo bilancio di fine mandato, questo libro, chiamiamolo così, questa pubblicazione che è arrivata a tutti i capi famiglia della sua città. Sì, ai capi famiglia è arrivata la versione ridotta, agli stakeholder, ai soggetti collettivi è arrivato il librone che è quello che è stato scandalo, io ritengo che scandalo non ci sia proprio perché il bilancio sociale di fine mandato è un obbligo preciso che l'amministrazione a cui deve ottemperare. Lo si può fare in tanti modi, noi abbiamo deciso di farlo in un modo leggibile da parte dei cittadini, corredato di grafici, di colori, anche di fotografie per ricordare tutto un percorso di quello che è avvenuto in cinque anni, ripeto è un obbligo, poi lo si può far bene e lo si può far male, noi abbiamo deciso di farlo bene. Nel posto che ho messo su Facebook ho ricordato che alla fine è costato meno di un caffè per ogni cittadino e questo secondo me la dice lunga sul fatto che oggi ci si voglia fare polemica sopra usando delle argomentazioni che secondo me hanno poco peso, l'importante è comunicare ai cittadini quello che si è fatto, altrimenti può anche sembrare che ci sia qualcosa da nascondere, invece deve essere tutto aperto, tutto alla luce del sole e tutto facilmente verificabile. Dal punto di vista delle liste che la sosterranno è già tutto chiaro, tutto netto o è ancora qualcosa da decidere? Ma mi pare che a oggi ancora non sia arrivata la completa gamma delle liste presenti, alcune che si erano dichiarate presenti ho saputo, mi è stato detto, che sono rientrate dentro il partito da cui provenivano, quindi diciamo che la situazione, usiamo questo termine, è ancora fluida. Io spero che si cristallizzi prima o poi perché bisognerà poi alla fine stampare dei manifesti con dei loghi e dipende chi c'è e chi non c'è. Per ora posso contare sui partiti tradizionali e lo devo confermare su Civitas Etruria che ha stampato anche il simbolo e quindi fa parte di questa coalizione che comprende Oraghinelli 2025, Fratelli d'Italia, Forza Italia e la Lega. E tra i sette candidati c'è stato chi è il caso di Luciano Ralli, ha chiesto che dalla competizione elettorale venisse tirato fuori l'argomento delle inchieste giudiziarie che hanno coinvolto anche il primo cittadino di Arezzo. Non ne devono far parte, voglio dire, quello è un tema che riguarda la magistratura che ho lasciato in mano ai miei avvocati, rispetto al quale sono tranquillissimo, ho dato più volte disponibilità alla magistratura per ascoltarmi, quindi da questo punto di vista non ho problemi. Mi dispiacerebbe se si facesse una campagna elettorale incentrata su un potenziale aspetto che mi riguarda dal punto di vista penale, non è quello. Giudicatemi per quello che ho fatto o che non ho fatto, che ho fatto bene o che ho fatto male. Ecco, il librone di cui parlavamo prima serve a dimostrare che le cose le abbiamo fatte bene. Insomma, una bella bega, come aveva detto cinque anni fa, che si è dimostrata tale in questo 2020. Beh, diciamo che guidare una città di centomila abitanti in un periodo come questo è una bega per definizione, che poi lo sia il sindaco Ginelli o altri, poco importa. È che è una città importante, la nostra è una città che aveva delle tematiche da risolvere, che in parte ha risolto e purtroppo ora ci siamo ritrovati con il Covid-19 che ci ha nuovamente bloccato. Però se guardate intorno, vedete turisti, vedete gente in giro, vedete una città viva, vedete una città che non si è accontentata di quel poco che il governo le ha dato. È una città che ha ritrovato se stessa e bisogna essere orgogliosi.